Ciao e buonasera a tutti da Fabrizio, vi parleremo in questo nuovo articolo di SEO di come orientare e migliorare il SEO per le aziende locali, quindi non sarà un tradizionale articolo sul SEO, ma guarderà nel caso specifico e sarà rivolta nel caso specifico alle aziende. Non abbiamo preso in considerazione per questo articolo le aziende di grosse dimensioni, ma le aziende di piccole e medie dimensioni che non possono sfruttare di un budget particolarmente elevato per ottimizzare il loro sito web e per farsi trovare nel mondo di Internet. Per parlarvi di questo articolo mi avvarrò di un articolo scritto per Noir Solutions di cui vi lascerò il link in descrizione. Veniamo adesso ad occuparci del SEO ed in particolare di quello rivolto alle aziende, ossia il business fissando un budget per realizzare un progetto per ottimizzare il vostro sito per i muscoli di ricerca. In primis è importante entrare nell'ottica che ogni azienda dovrebbe implementare strategie SEO al fine di migliorare il posizionamento dei motori di ricerca nel proprio sito web. Sembra apparentemente un concetto semplice, ma vi posso garantire che c'è ancora molto scetticismo in merito nonostante siamo nel 2018. Insomma, c'è ancora chi nel web, e purtroppo solo una maggioranza, che ritiene che il SEO sia una sorta di abracadabra. Non è così. Investire nel SEO porta ritorni molto superiori a quanto si è investito. Ci sono molti commercianti e proprietari di piccole imprese che non lo fanno. Vi posso garantire che tante volte è più complicato fare comprendere a piccoli commercianti e proprietari di piccole imprese quanto sia importante e remunerativo il SEO che non attuare delle politiche SEO vere e proprie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.